non preoccupatevi ci siamo anche questa mattina è che il morning no come si chiama il cristal history è un po più lungo del solito ma good morning milano è qui buongiorno a tutti 709 buongiorno lorenzo che è qui con me adesso si sta sistemando anche lui che sta aprendo tutti i vari giornali tutte le varie ammenicoli da leggere giusto no lorenzo buongiorno buongiorno a tutti siamo pronti tante tante notizie come se fossero un altro lunedì sì hai visto c'è questa cosanta roba c'è sono tante dei lunedì che non abbiamo letto ma noi commenteremo che noi facciamo anche un approfondimento noi commenteremo e soprattutto noi possiamo leggere tanto noi leggiamo notizie scrivono altre quindi siamo abbastanza riparati dal dire stupidaggini in realtà poi non è vero perché poi scopriamo che scrivono un po di stupidaggini ma voi invece come va che fate 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 questo è il numero di whatsapp a cui potete scriverci a cui potete mandarci audio video un po quello che volete così piano piano in punta di piedi come piace a noi giusto assolutamente noi siamo sempre qua tanto dalle 7 alle 9 ascoltare buona musica parlare di notizie parlare anche dei fatti nostri perché no chi ci muove da qua e che ci muove nessuno ma iniziamo con la musica vai vai c'è un nostro amico o meglio un damico dargen dargen d'amico con ubriaco di te alle 7 e 11 minuti su crystal radio benvenuti a good morning milano e benvenuti a salvador de bahia con dargen d'amico qui le sensazioni sono quelle poi dargen o dargen no dargen non lo so cos'è un'idea non c'è l'h quindi non so quando leggo una g mi sembra leggere la g ma è un problema mio neurologico stavo cercando di dare una connotazione inglese a questa vicenda qua no anzi in inglese non esiste il g come no il suono g cioè la g è sempre g ah no se ce l'ho in mente perché no o il contrario non mi ricordo secondo me il contrario il contrario pregnant si dice è infatti ma scusa il contrario forse per quello perché sono americano uanagana va bene abbiamo già letto almeno tre stupidaggini nei primi 4 minuti di trasmissione pensate cosa possiamo fare entro le 9 esatto entro le 9 subito velocissimi con l'almanacco facciamo dopo facciamo dopo perché per fare un po' adesso dobbiamo andare anche a parlare del traffico dobbiamo andare a parlare delle cose un po' più così invece oggi giornate importanti e allora parliamo subito dello sciopero oh che bello ci mancava da un po' lunedì 15 dicembre ci sarà adesso ne parla un po' più gente possiamo tranquillamente dirlo perché sai che fino all'ultimo adesso con la presentazione eccetera eccetera sciopero 15 dicembre 15 dicembre a milano dei mezzi pubblici e non solo a milano a rischio metropolitana tram e bus l'agitazione è sempre contenuta nelle solite fasce quindi prima delle 8.45 non ci sono problemi e dalle 15 alle 18 non ci sono problemi per il resto invece prevedete tempi di percorrenza maggiori tu sei quello che guarda il logo di batman e non vede il pipistrello dentro ma vede lo sfondo cioè tu sei quella roba di sei no perché dico quando si può andare in giro sciopero indetto dalle sigle usb lavoro privato al cobas e cube trasporti ricordiamo che questa agitazione è quella di due settimane fa posticipata perché intercorreva troppo tempo da quella ancora precedente troppo poco tempo da quella ancora precedente adesso ormai non possono più precettare quindi venerdì 15 venerdì 15 esatto 15 venerdì 15 venerdì fra tre giorni fra tre giorni tra l'altro quindi sciopero dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio esatto per le altre persone per chi ragiona il binario decidete voi da che parte stare tra quelli che dicono l'orario dello sciopero o l'orario delle fasce garantite insomma così è giornata quindi non sarà facile molto probabilmente però ci permetiamo già venerdì di default non è facile sì infatti bravissimo le sigle non sono poche sono tre di media adesione diciamo non sono sindacati confederali però di media adesione ecco diciamo quindi magari questa volta ci sono un po' più di adesione e come sempre magari ne risentono le metropolitane in primis quelle automatiche dove di basta che faccia sciopero uno e ovviamente si ferma tutta la linea oppure ultimamente notavo che le spezzano naturalmente hanno le centrali che gestiscono solo un troncone e quindi l'ultima volta andava solo in un punto non in un altro tra l'altro ieri il sindaco Sala ha detto a margine dell'inaugurazione delle luminarie se non sbaglio che strano che c'è l'inaugurazione a Milano una roba del genere ha detto che i conducenti ATM dovrebbero guadagnare di più leggo da Milano Today detto dall'azionista di maggioranza di ATM ATM del comune ha spiegato appunto che fosse necessario un aumento dei salari ma non ci sarà un rincaro biglietti per aumentare gli stipendi grazie grazie mille andiamo a vedere invece il traffico su Milano in questo istante come va e questo era Fabio Rovazzi Fabio Rovazzi su Cristian Radio alle 7.22 di oggi martedì 12 dicembre 12 dicembre è una data che insomma a Milano vuol dire tanto ti anticipo l'inizio del Maracco poi dopo leggerai bene tutto quanto oggi l'anniversario della strage di Piazza Fontana no? 1969 giusto? 12 dicembre 69 44 anni fa ok sostanzialmente l'almaracco prevede e questa è l'unica cosa importante ok è nato anche Frank Sinatra per carità per carità però diciamo che e Fiona May e Fiona May l'atleta è vincitrice di una delle prime edizioni di Ballando con le Stelle quando guardavo Ballando con le Stelle sì c'è stato un periodo in cui guardavo Ballando con le Stelle e me ne vantavo no io ho mai visto comunque se volete approfondire il tema su Piazza Fontana vi consiglio un libro che si intitola Nessuno Nessun è stato di Fortunato Zinni si chiama Piazza Fontana Nessuno è stato di Fortunato Zinni Fortunato è un oltre anche politico milanese è stato sindaco di Bresso per un periodo e quello dopo ma soprattutto perché ha scritto questo libro perché è stato uno è uno dei sopravvissuti alla strage di Piazza Fontana se vi interessa potete anche andare a approfondire il tema con un'intervista che trovate su Milano News se andate a scrivere Fortunato Zinni sul sito di Milano News o chiedete Fortunato Zinni Milano News su Google o su YouTube lo trovate una bellissima intervista in cui ci ha rilasciato l'anno scorso proprio in occasione del 12 dicembre proprio qui nei nostri studi quindi un momento come Piazza Fontana che è sempre bene ricordare oggi ci saranno ovviamente le commemorazioni le manifestazioni le 11 più una vittima della strage di Piazza Fontana vanno ricordate sempre ogni anno non solo il 12 dicembre magari ma prima ancora parliamo di Milano di quello che è successo a Milano e io dico sempre che stragi di questo genere in particolare appunto quella di Piazza Fontana che ha interessato chiaramente la nostra città non sono nemmeno citate nelle scuole e io questa roba qua ti giuro che non la sopporto Fabio perché magari si sa meno ha dito tutto quello che succede prima ammesso che si sa più o meno ha dito tutto quello che succede prima ma il fatto di non citare di non arrivare nemmeno lontanamente figurati ci si ferma la seconda guerra mondiale a tutto quello che è successo poi e il periodo di terrorismo che ha interessato gli anni recenti perché stiamo parlando a fine di decine di anni fa non troppo non troppo fino agli anni 60 inizio 70 è assurdo che non si sappia nemmeno ho fatto un piccolo errore scusate le vittime sono 17 più 1 non 11 ok non volevo raccontare di quel più 1 sapete benissimo cosa si riferisce a una vittima diciamo collaterale dove anche lì come si dice nessuno è stato con la S maiuscola e intanto c'è una c'è un'iniziativa del comune patrocinata dal comune di Milano che è una sorta di itinerario interattivo che fa tappa nei luoghi simbolo dell'attentato del 12 dicembre del 1969 si chiama City Escape che appunto racconta la storia della bomba la banca dell'agricoltura ecco ad esempio vedi in questo caso un'altra di quelle cose che mi fanno un po' arrabbiare è una figata sta roba cioè nel senso che veramente mi chiamano City Escape una roba da Disneyland cioè sembra capito l'escape room che vai a fare con gli amici che figata vi diverto a cioè e invece è un tour importantissimo perché davvero quella lì è l'inizio di tutto inizia un po' tutto con la strategia della tensione tutti quegli anni iniziano lì e finiranno poi forse con Bologna sì forse sono attivanti ancora 7.33 minuti bentornati a Crystal Radio bentornati a Good Morning Milano bentornati anche a chi ci sta scrivendo al 331 78 535 555 ringraziamo Alberto buongiorno un saluto a tutti gli amici del mattino stiamo correndo a tutta velocità verso le festività natalizie e la fine di quest'anno eh sì e infatti siamo andati in giro sembra a Las Vegas parliamoci chiaro sì la svegas fatto male la svegas fatto male con luci improbabili renne babbi natali che si arrampicano ovunque vecchi soprattutto cioè babbi natali vecchi non anziani che si arrampicano vecchi babbi natali che sono 30 anni che vengono messi fuori infatti ormai sono sbrindellati vestiti non più di rosso e grigio non più rosso e bianco infatti poveri la magia del natale la magia del natale sì la magia del natale gli darei fuoco a quei babbi natali no no però sì lo farei quale può essere cosa può diciamo aumentare la magia del natale se non un day christmas village no se non un treno che che viene comprato ma non passa dalla galleggia te la sai questa cosa sì ho letto per la sterile dimensioni non contano cosa è successo è successo che in questo momento cioè aiutami a capire bene perché è un po' un casino sostanzialmente c'è una galleria di monte olimpino sì che non permette di far passare perché è troppo bassa sì i nuovi convogli di trenord sì al punto da interrompere la corsa prima far scendere e arrangiarsi in altra maniera sembrerebbe sì e lo scaricabarile qual è? qual è? io non ho letto questo infatti dimmi qual è lo scaricabarile? la galleria è troppo bassa il treno non entra nel tunnel nel tunnel di Chiasso scaricabarile di treno nord quindi sostanzialmente quindi non è il treno che è troppo alto no no è la galleria che è troppo bassa cioè non sono io che mangio troppo non mi fanno i pantaloni sono quelli che mi fanno i pantaloni che li fanno troppo piccoli esatto ah ho capito ecco interrotta la tratta da Milano per la Svizzera passeggeri inferociti la regione si scusa ma al momento non sono previsti piani di adeguamento a quello che non capisco cioè non hanno dei convogli da mandare lì cioè sposti un treno da Cremona dove non c'è una galleria per 700 chilometri e lo metti lì cioè adesso non me ne vogliono gli amici di Cremona cioè per questo ho detto aiutami a capire eh no ma è impossibile è impossibile capire secondo me se non ci sta quello ne mettiamo un altro no non lo so nel senso tra parentesi poi monti un impinto c'è la galleria stradale che tipo sono 22 anni che stanno facendo i lavori e se tu senti ogni giorno anche luce verde ce lo dice code perché quella lì no non ci hanno pensato no ti giuro non l'ho capito e la cosa sconvolgente è che nessuno l'ha capito secondo me non so se mi rispondi così cioè non è impossibile prendere un trenino e spostarlo lì metti un trenino più piccolo che fa solo le due fermate tra una galleria e l'altra cioè non so cosa dire intanto Pierfrancesco Maran assessore alla casa del comune di Milano e comunque personalità di spicco della politica milanese sta succedendo davvero dice sono stati ordinati treni che non che non tengono conto dell'infrastruttura al punto di dover programmare di ridurre l'estensione del servizio Milano se la regione fornisse un servizio ferroviario civile sarebbe un'area metropolitana molto più grande sì dopodiché quando cominciano a fare però questi attacchi fanno un po' dimmi se devo andare a difendere adesso il presidente della regione che era quello che non uscì neanche mette su una mascherina cioè ma te dimmi se devo difendere uno così però mi viene a difendere perché adesso va bene tutto Maran però non è che le case che tu gestisci sono tutte perfette ho capito ho capito ma allora non è che c'è il diritto di diciamo no non lo so ma ho capito cosa vuoi dire ma no quando saranno tutto a posto le case del comune non avranno problemi allora Maran potrà dire che i treni sono troppo grossi per passare alla galleria Agosto Morsica e anche questo dicembre non è da meno la canzone si chiama Agosto Morsica e anche questo dicembre non è da meno pensavo fosse un nome e cognome Agosto di nome Morsica di cognome avevo capito Agosto ma avevo capito Augusto chiaramente Augusto Morsica Augusto Morsica e Giulio ti dà un bacino cosa vuol dire uno Morsica l'altro leccare faceva schifo i giochi di parole veramente sarebbero da bandire sì allora i tuoi amici i tuoi amici gli LLST come si chiamano ecco li lasciamo a casa loro sono dei fuori classe loro si o no sono dei fuori classe dai le storie delle tese da quel punto di vista incredibili dica noi siamo Fabio e le storie Mosche vedi tutte queste cose qua evitabili evitabilissime anche comprare un treno che non passa da una galleria sarebbe evitabile aggiungo solamente che io invece sono favorevole al diritto di critica anche se cioè se no può parlare di calcio solamente chi è Maradona sì ma no cioè questo è ciò che dice Lilladani quando lo criticano dicendo che è un difensore che è stato un difensore ultra mediocre ah ok però dice però non è che solo Maradona comunque parlando di cose serie cioè come noi nessuno ci può criticare perché perché devi essere al nostro livello di radiofonia per poterci criticare oppure più alto non ce n'è più alto non ce n'è più alto tornando alle cose serie da sabato 16 dicembre ci sarà un mercatino verrà allestito un mercatino aspetta no di Natale dentro il carcere di Bollate ah ok è una cosa un vero e proprio mercatino con tanto di bancarella eccetera si legge e lunghi corridoi del carcere saranno esposti e in vendita prodotti di economia carceraria con stand allestito dalle diverse realtà e quali presenzieranno presenzieranno i detenuti stessi bello molto molto bello è anche uno dei pochi mercati dove non ci possono essere gli abusivi oggettivamente oggettivamente no però è bello cavolo ma è aperta tutto è aperta al pubblico è aperta sotto cioè sì immagino che poi si è aperta in qualche maniera al pubblico e immagino con le dovute precauzioni registrazione tutto perché sennò e poi non credo che sia nei corridoi tra una cella e l'altra cioè ci sarà un corridoio oppostamente nella zona tra virgolette comune ok mi informerò su questo e cercherò di avere sì 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 dai vediamo se ai nostri microfoni dai dai mi piace mi piace approfondiamo approfondiamo perché vedi ecco questa è una cosa una lodevole iniziativa vedi finalmente un mercatino utile mi viene da dire adesso va bene me ne vogliono tutti gli altri no vabbè oggettivamente è molto più utile delle decine decine sparse nelle città anche se devo dire che ho difeso sto difendendo leggermente poco poco non ne vogliate troppo il mercatino di piazza del Duomo l'intorno perché ho visto che c'era tanto cibo tra tutti il mercatino di piazza del Duomo ci sta alla fine sì sì se sei salisburgo sei un turista no vabbè dai in piazza del Duomo a Innsbruck in piazza del Duomo a Merano ci sta in piazza del Duomo a Milano secondo me è una grande io quando leggo Allianz Mico prima di dicembre era solo Allianz Mico conferenza total Allianz Mico fittata per il costo ma per conferenza esatto adesso Allianz Mico leggo villaggio di Natale più grande d'Europa ma adesso Allianz Mico è parte integrante di City Life da quando hanno aperto l'ingresso dalla parte di City Life c'è tutta la spianata che va giù bella col giardino il parco le luci e compagnia canta i sassi le luci Babbo Natale l'Islanda cioè è così capito nel senso è un posto ormai dove fare grandi iniziative per forza perché a Milano sono grandi iniziative a Milano solo grandi cose non siamo capaci di essere come diceva Arrigo Sacchi non abbiamo l'umiltè come diceva voi e noi ci andiamo con Blanco che con umiltè ha guettato insieme a Mina Blanco insieme a Mina un briciolo di allegria questo è il titolo della nostra canzone come sapete infatti cerchiamo di aglietarvi la giornata con questo prima soprattutto di avere le notizie che non sono mai invece molto divertenti perché come sapete ieri entraremo nei dettagli eccetera anche perché è comunque arrivata le cronache nazionali c'è stato un incidente sul lavoro a Milano in cui ha perso la vita intorno alle 8 di mattina un operaio di 28 anni dopo essere stato colpito da una cassaforma metallica mentre stava lavorando a un cantiere in via Parravicini poi anche quando legge questo incidente si può anche aggiungere unnesimo incidente sul lavoro perché è veramente ahimè una piaga che affligge il mondo del lavoro italiano adesso non so magari anche all'estero succedono queste cose non voglio essere il solito ecco l'Italia 5 esterischi queste cose ma neanche tanto ecco Milano chiaramente abbiamo moltissimi cantieri è un problema grosso è un problema grosso perché appunto avvengono tante tantissime vittime davvero io mi ricordo una canzone di 99 post negli anni 90 che già raccontava questa storia diceva che era una strage una guerra sono passati quando avevo i redlocks sono passati 30 anni e siamo ancora qui a raccontare praticamente la stessa storia è un problema sicuramente c'è qualcosa che non va e ho paura che questo qualcosa che non vada sia a tanti livelli cioè a livello dei lavoratori che spesso volentieri sottovalutano certi rischi a livello dei datori di lavoro che sottovalutano o fanno finta di non vedere o speculano su certi rischi o non sanno perché come spesso volentieri non sanno neanche Giancarlo Restivo ha detto ai nostri microfoni che è il segretario di safety players quindi la nazionale sulla sicurezza sul lavoro ha detto che la proposta di legge l'hanno fatta loro per formare i datori di lavoro per formare soprattutto i dirigenti sì perché succede questo sulla sicurezza la solidità è questa adesso la dico brutta vai a fare il receptionist o la receptionist in un'azienda ti fanno il corso della sicurezza sul lavoro e poi vabbè andremo a parlare anche di cosa sono questi corsi vabbè tu sei proprietario di quell'azienda non fai il corso per la sicurezza del lavoro a meno che non devi toccare cose strane chimiche non hai quell'obbligo lì di legge infatti Restivo appunto ci diceva hanno fatto una proposta di legge per cui anche chi dirige e chi ha le proprietà di quell'azienda deve sapere conoscere i rischi perché poi appunto la conoscenza è alla base di tutto sapere cosa rischiano dei tuoi lavoratori può portarti a io non dico prendertene cura cioè non voglio essere così romantico da pensare che però magari anche sì comunque sai quali sono i rischi sai come fare a evitare certe problematiche che poi quando succedono queste disgrazie sono disgrazie per tutti in primis per il lavoratore che è lavoratore famiglia che vabbè io nel 2023 pensare che uno che esce da mattina dice ciao va dal lavoro e poi non torna perché muore su quel posto di lavoro è qualcosa che non deve esistere proprio due anche le aziende vengono chiuse vengono fermate vengono multate tutte storie che vengono indagate cioè non sono cose storie che vanno avanti per anni 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 decenni a volte anche tutto adesso faccio il rivoluzionario io tutto per il mero guadagno il mero capitalismo forse sì forse anche un po' perché siamo stupidi cioè lo dico proprio perché siamo abbastanza evoluti sì bravissimo forse perché siamo in realtà diamo la colpa sempre a qualcun altro non diamo la colpa al capitalismo in questo caso ma forse in realtà la verità è che siamo noi che siamo un po' troppo stupidi e non accettiamo e capiamo che dovremmo essere educati anche su questo però ripeto spesso e volentieri sono colpevoli sono in tanti sono in tanti non voglio additare non voglio né additare né difendere né scagionare nel senso secondo me dovremmo fare un bel quando si fanno gli stati generali si fanno mai su tutto ecco magari sulla sicurezza punto che sia sul lavoro o non sul lavoro a casa secondo me sarebbe un bel tema e non gestito dalla stessa persona sempre il solito discorso sicurezza è un tema talmente ampio che più persone ci sono in ballo meglio io mi permetto di dire non come delegato speciale al sindaco come abbiamo visto ok per carità ben venga però c'è sempre il solito discorso ossia puoi spendere soldi puoi fare politiche effettive di sicurezza o sei solamente un nome tirato in ballo dai giornali per dire potrebbe aumentare la sicurezza qui ci deve essere un tavolo a cui si siedono in tanti i lavoratori i sindacati gli amministratori locali gli amministratori nazionali la politica la società civile intanto per alleggerire un pochettino ritorniamo un po' sulle vicende politiche quello che dice questo e quell'altro Paolo Romano consigliere regionale del partito democratico ha lanciato ieri un allarme dicendo che la regione Lombardia sta tagliando in bilancio tutte le voci che riguardano la lotta alla mafia ci sarebbe un taglio secondo i calcoli di Romano del 60% sui fondi per i beni confiscati alle mafie e il 70% sulle politiche antimafia in generale sempre belle notizie arrivano da quel palazzo come le leggi leggi sempre buona notizie che andai a quel palazzo vabbè magari cerchiamo anche un punto di approfondire anche con Paolo Romano che so seguirci quindi so che ci segue quindi chissà che magari si senta io l'ho incrociato Paolo Romano io l'ho incrociato recentemente recentemente? sì a pista di patinaggio dove? no no non lo dico a Christmas Village era nel privato quindi non lo dico va bene alla fiera dell'artigiano sicuro hai vissuto lì per una settimana praticamente no 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 un saluto al consigliere romano i giornali si accorgono che a Milano continuano ad aumentare la quantità di automobili che ogni giorno entrano in area B ricordiamo che area B è la seconda cintura che sostanzialmente va dovrebbe andare a impedire l'ingresso in città delle auto particolarmente inquinanti ma che sostanzialmente non fa nulla desistera funziona non fa desistera non funziona il numero di auto inquinanti in città è diminuito perché è diminuito il parco globale delle auto inquinanti cioè la gente le ha buttate via e sta comprando le macchine nuove qua addirittura Federighini dice in area B più 7,75% di auto può essere no no perché attenzione la flessione in area B è delle auto inquinanti cioè se ti compri la Tesla ok certo ci entri tranquillo e viene conteggiata e viene conteggiata quindi in realtà ci sono più ingressi di auto meno inquinanti di prima ma sono più auto e se noi cominciamo a pensare che il problema delle auto non sia solo l'inquinamento anzi posso dire non è l'inquinamento ormai le auto non inquinano più come prima inquini molto di più mentre respiri tu lo che insomma si è ricapito ma il problema è di volume di spazio occupato nella nostra città dalle automobili che sono troppe e sempre più grandi tra parlando se tutti comprassero una smart faccio nomi e cognomi solo nome smart se tutti comprassero una smart c'è abbastanza chiaro vabbè parliamone se tutti comprassero la respa parliamone ma se noi continuiamo a prendere e qui non faccio nomi auto che superano i 4 metri capisci che insomma c'è anche il pericolo di sicurezza stradale e poi c'è quel pericolo lì sempre più alte le auto il frontale la calandra così si chiama termine tecnico è sempre più alta passeggini bambini biciclette fai strike e il post continua dicendo che appunto la tariffa da 5 a 7 euro e 50 di aria ci serve a fare un po' di cassa e non a disincentivare l'uso delle auto e migliorare l'ambiente apprezzo la schiettezza del consigliere e sostiene c'è solo un dato che diminuisce e questo era il punto cardine dell'intervento in consiglio comunale l'uso del backsharing se alle biciclette a noleggio dal lunedì al venerdì quando è maggiore il traffico urbano il backsharing crolla di circa il 10% rispetto ai giorni in cui come quelli sabato e domenica la gente è più incentivata il backsharing viene usato di più durante il weekend rispetto a quando in realtà l'idea del backsharing sarebbe quella di utilizzarlo per andare a lavorare non per andare a scampare dal parco lui sottolinea questo e già in quell'intervento in questo posto sostanzialmente dice di incentivare dal lunedì al venerdì l'utilizzo del backsharing in qualche maniera come devi levare le macchine nella strada è l'unico modo per incentivare io ormai ho in testa quella roba lì che c'è stato il nostro ospite spazi diversi veicoli diversi io ormai ho quella roba lì fissa in testa non riesco a toglierla dalla testa ogni veicolo deve avere il suo spazio in città capito o felè fa il suo mestè ogni scarafone è bella mamasoi capito ognuno ha i suoi spazi DNA Sophie and the Giants questa è la musica che volete ascoltare e anche se volete ballare la mattina qui a Good Morning Milano su Crystal Radio vi ricordo sempre così se non siete persi che è il miglior morning show di tutto il pianeta di tutto il pianeta terra per ora solo terra sì stiamo lavorando per Good Morning Mars vediamo cosa succederà siamo in contatto con le romane no non mi direi maschi mi viene affame ma ah per il Mars sì sai che io sono mamma mia no non puoi dirlo non posso dirlo parlando bene non male adesso siamo persi lo sponso la Mars voleva venire a sponsorizzarci tutta una settimana un mese un anno di trasmissione adesso è colpa tua non mi piace particolarmente Caramello posso dire preferisco lo sneakers lo sneakers poi quello a me piacciono le pubblicità dello sneaker cioè piacciono per forza vedere se guardo YouTube non è che posso fare altro se prendiamo un capitolo su questa cosa della pubblicità su YouTube sì sono diventate veramente invadenti secondo me però non rischia perché non c'è l'alternativa anche io sostengo che sia social che sotterrerà tutti cioè non c'è un'alternativa perché come fai se vuoi anche lanciare un servizio nuovo al posto YouTube ma quanti soldi hai bisogno cioè quanti server quanti hard disk quanti floppy disk devi mettere con tutti i video di noi altri soprattutto per avere quella memoria comunque torniamo al nostro vai recuperiamo il discorso sulla sicurezza stradale perché ieri l'AMAT che è l'agenzia comunale che si occupa di mobilità ha stirato la classifica delle strade più pericolose di Milano e quindi adesso facciamo partire la sigla del pranzo e servito ma non fa così papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapam Humm No è uno No io la faccio polifonica tu l'hai fatta automedire l'hai fatto cosa sai Demetrio Stratos no solo un Nokia 3310 sono le sonerie polifoniche comunque il primo posto a chi spetta non lo so Via Padova ah ok Via Padova Che in cinque anni ha totalizzato 479 incidenti con 105 pedoni e 90 ciclisti investiti. I dati sono nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021 e sostanzialmente questa è una classifica che ne aggrega tre e ne fa una completa. Andatela a cercare perché è veramente veramente interessante perché se la prima è via Padova tu dici vabbè la seconda sarà l'altra parte di Milano. No, via Monza. Ok, a questo punto immaginavo. 520 incidenti. Ragazzi ma sono vie che sono lunghi, cioè anche lì ogni veicolo deve avere. Sul cadino più basso Ripamonti. Come? Stano però. Cosa hanno in comune via Padova, Gale Monza e Ripamonti? Che sono lunghissime. Lunghissime. C'è un'acciclabile. Discutibile. Discutibile. Ripamonti non so se c'è. No, però c'è la rotella del tram Ripamonti. In mezzo. Sì, 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 sì. E c'è il 24 che vi porta in Vianotto, tutti voi studenti universitari che odiate andare fino in Vianotto. Ma dai devo dire. Sei l'unico. Sei l'unico. Due ne conosco, tu e un altro, Filippo, che abita a Rozzano e quindi vabbè, se li divianco. No, io ho qua il fatto che c'è il sale Selunga. Che poverine queste signore. Io non ce l'ho con le signore che salgono quelle busse rapide. Tra l'altro ci sono due Selunga nei Pamonti. E beh, c'è di lunga. Infatti. Con le signore che entrano, poverine, sono tutte con un sacco cariche e ci siamo noi a far casino. Ok, e quindi il problema è se non le signore voi? No, siamo noi, siamo noi. Il problema è che la stanza Oscar. Tananai con Tango, una canzone dedicata al famoso pallone che noi usavamo negli anni 90. Anche io l'ho usato il tango. Lo so, infatti. Mamma mia, che male, ragazzi. Vabbè, ma era l'evoluzione. Perché c'era il Super Tele, che era quello che c'era prima, un po' di noi poveracci. Poi è arrivato il tango, che era bianco e nero, sembrava un pallone vero, sembrava fintamente di cuoio. Sì, fintamente. Quando arrivava sulla pelle, era devastante. Credo non avessero fatto anche una versione finta Italia 90, una cosa del genere. Anche io ne avevo uno vecchissimo. E quando? Ah, quanto si buttavano per terra le felpe per fare le porte a Villa Litta. Ah, vedi? Eh sì. Adesso si buttano da parte agli alberi, direttamente. Si sradicano. No, no, recentemente, quando appunto sono andato al Christmas Village, ho visto che c'è ancora gente che butta le felpe per terra e gioca a calcio. Non voglio fare il vecchio, però ho un maglione particolarmente da vecchio e quindi diciamo che ciò che dico si adegua perfettamente allo stile. Ma ricordiamo, 33178-53555. Siete vecchi? Il tango era a cuoio vero, era a cuoio vero, non era finto. Allora il mio era fake. Allora il mio era fake. Tu eri il mondo. Perché c'era il tango e il mondo, il mondo era quello dei sfigati. Pensa che il tango l'ho fatto regalare a un certo punto dal nonno, che ha lasciato giù un mezzo stipendio, che costava tanto anche il tango. Due calci, al terzo lo scaravento, c'è una bella pallonata di quelle forti sul muro, è esploso. Sì, è esploso il pallone, ma non perché io fossi Oliver Atton, Roberto Carlos, ma perché l'avevamo gonfiato troppo, quindi era praticamente un pallone ero statico, il muro è leggermente zigrinato e il minimo puntello gli ha fatto esplodere. E quindi ho finito la mia lezione di tango. Vabbè, bellissima comunque questo ricordo di casa Ranfi, è stato molto piacevole. Andiamo avanti con i Marnskin, 20 anni, no, ne avevo molti meno quando ho sporcato il tango, però insomma, me ne ricordo i miei 20 anni. Ah, come non tornerai mai indietro, mai! Dua Lipa, Dance the Night, 8 e 32 minuti, Crystal Radio. Io in attesa del nostro ospite che sta entrando in questo momento nei nostri studi, il martedì è il momento della periferia, no? Di Walter Cherubini, consulta periferia a Milano, che fra poco appunto sta già entrando negli nostri studi e fra poco sarà qui ai nostri microfoni. Intanto 33178-53555. Poi scrivete i nostri whatsapp per raccontarci un po' tutto quello che avete fatto in queste giornate o quello che magari avete in programma di fare quest'oggi. Andiamo con un po' di musica ancora, questo è Samuel insieme a Colapesce con Corcorico, 8 e 32, Crystal Radio. Good morning Milano. E questo era Samuel insieme a Colapesce, 8 e 36 minuti, benvenuti al nostro ospite Walter Cherubini. Buongiorno a voi ben ritrovati. Buongiorno Walter. Natale, è Natale. Natale, è Natale, è Natale e si può vedere le luminarie a Milano. Esatto. Allora, io dico quello che ci hanno detto, poi dimmi tu cosa avete analizzato voi della consulta periferia. Ci hanno detto quest'anno che è Natale per tutta la città, perché? Se tu sei in azienda e volevi fare una luminaria o un albero nel centro della città, eri costretto, in un certo senso, a farlo anche un intervento nella zona più periferica della città. È andata così? Sì, diciamo che c'è un intendimento di riequilibrio. Ok. Nel senso che tutti quanti vanno in centro, l'abbiamo visto anche in situazioni precedenti, bolle in piazza del Duomo, subito più in là ci sono le iniziative sportive, poi c'è magari una manifestazione particolare perché nell'occasione c'era anche l'anniversario del generale dalla chiesa. Allora andiamo da piazza del Duomo a il castello e subito dopo, dove c'è un affollamento che non ci si riesce proprio a stare. E' chiaro che tutti quanti tendono ad andare verso il centro perché si ha una maggiore visibilità. Allora, l'amministrazione comunale che è per tutta la città, per tutti i 181 km quadrati e per tutto il 1.400.000 residenti, direi che in questa occasione, invitando spontaneamente o spintaneamente coloro che vogliono utilizzare per certi aspetti e dare visibilità alla città, avere visibilità nella città in questo caso, ha detto va bene, distribuiamoci un pochino. Il risultato è che ci sono 42, se non rammento male, però l'ordine di grandezza è questo, punti di luminaria e ce ne sono 21 che sono nel centro e 21 che sono nel resto della città. Ok, detto così, funziona quindi? Ma no, diciamo che funziona come logica, dopodiché si va a vedere qual è la stratificazione e allora c'è sul 9 km della città, che sono il 5% della città, che appunto c'è una concentrazione di 21 e sul 95% della città c'è una concentrazione di 21 sempre, c'è questo dato. Il problema è che può fare tendenza questa cosa, ne avevamo parlato anche rimanendo sui termini, diciamo così, estetici e anche magari artistici, ne avevamo parlato anche con il bonus che c'era per quanto riguarda la cultura. Allora, anche con il tema del bonus alla cultura, se i fondi che stanziano i privati vanno alle realizzazioni più evidenti, perché le altre sono sconosciute, non è che uno non voglia sostenerle, ma proprio non sono conosciute, allora è chiaro che l'amministrazione, vedendo che arrivano fondi al Teatro La Scala, può anche dei fondi che normalmente dà al Teatro La Scala dirottarli da qualche altra parte, altrimenti noi non avremo mai una città equilibrata, cosiddetta policentrica, che se poi non c'è l'amministrazione policentrica non sarà mai policentrica, ma di questo ne parleremo. Eh sì, insomma, quello del tema delle periferie è un tema che appunto da anni portiamo avanti insieme a Walter Cherubini, quando appunto vieni qua a raccontarci la città e ricordiamo essere la maggior parte della città e quindi sempre è questo fondamentale. Buona iniziativa, buon punto di partenza, speriamo che appunto prenda piede e che magari d'orina avanti poi ci siano veramente non solo 21 luminarie sul 95% del territorio, ma sempre di più, ma non solo luminarie, cioè che le attività appunto, anche i fondi vadano a raccontare meglio quello che succede in periferia e nelle realtà presenti, perché questo che Walter dice sempre, in realtà esistono, ma sono sconosciute, facciamole conoscere. Andiamo dalla periferia, però una cosa arriva sicuramente, la musica. La musica viene sempre da lì, è difficile che uno di questi, ad esempio, è Arcomicon, insuperabile. 8.40, Cristal Radio, Good Morning Milano. Insuperabile, Arcomicon, Cristal Radio, 8.43 minuti, Good Morning Milano insieme a Walter Cherubini. Parlavamo dei fondi che vengono destinati alla cultura, ad esempio, una poco fa, cioè ricordiamo un po' anche l'entità di cosa significa questo. Allora, facciamo il paradigma della cultura territoriale dei comuni di Milano, e siamo anche nel centenario degli antichi comuni milanesi, quindi è centocinquantesimo anche dell'aggregazione del comune dei Corpi Santi, che sostanzialmente vuol dire fino al 1873 il comune di Milano erano i 9 chilometri quadrati del centro storico. Successivamente, 1873 appunto, aggregazione del comune dei Corpi Santi, il comune di Milano passa a 76 chilometri quadrati. Con il 1923, 14 dicembre 1923, appunto, fra pochi giorni scade il centenario, il comune di Milano si estende in quelli che sono i confini attuali, 181 chilometri quadrati. Questo qui è un pochettino la cronistoria, è una data che è sconosciuta, perché a scuola non ci viene insegnato a noi, a Milano, come si è evoluta l'ingrandimento della città di Milano. Questo qui è il primo punto. Allora, se ritorniamo al nostro paradigma, quindi fatto questo paradigma di estensione territoriale, si potrebbe parlare sugli abitanti delle cose interessanti, ma prossimamente. Allora, noi abbiamo il teatro La Scala, che era il teatro del comune di Milano, perché è fondato nel 1770-80. Quindi questo qui è il teatro della città di Milano originaria. Per quanto riguarda, diciamo, parliamo dall'unità d'Italia in po', mettiamolo in questa maniera. Ha un bilancio di circa 130 milioni di euro l'anno. Il bilancio della cultura del comune di Milano assomma circa, mediamente, 90 milioni l'anno. Dopodiché ci sono i municipi, diciamo così, gli otto municipi periferici, lasciamo perdere il municipio 1, che generalmente stanziano circa 60 mila euro l'anno. Vuol dire 6 per 8,48, mezzo milione l'anno. Allora, i numeri sono 130, 90, mezzo. Questo è il tema di fondo. Ecco, direi che, cosa vuol dire? Che c'è un'assenza? No, c'è una presenza non conosciuta. C'è la presenza conosciuta ufficiale e c'è una presenza non conosciuta. Perché uno potrebbe dire, va bene, allora sul territorio periferico non c'è nulla. Ma se riprendiamo quella che è l'area degli otto municipi, quindi recuperando anche un pezzo di semicentro, qual è il tema? Noi abbiamo, per esempio, 109 teatri amatoriali o professionali. Nemmeno i teatranti sanno che ci sono tutte queste disponibilità. Dopodiché, per esempio, chi genera cultura di varia natura, da chi proietta film, chi fa spettacoli teatrali, eccetera, eccetera, abbiamo mappato sul sito periferiaimilano.com 183 circoli o associazioni culturali. Se andiamo ancora avanti, abbiamo tra le biblioteche comunali presenti sul territorio periferico, che sono 22, più biblioteche di associazioni, biblioteche anche di condominio, ne abbiamo più di 60. Se poi prendiamo, siccome noi abbiamo promosso ormai da oltre i due lustri l'iniziativa Cori Milano per le periferie, abbiamo anche, che hanno sede in questo territorio periferico, che potrebbe sembrare deserto, più di 70 cori amatoriali. Ecco, abbiamo una presenza di 400 soggetti. Se andiamo più nel dettaglio, possiamo dire che ogni mese queste realtà promuovono a titolo gratuito più di 300 iniziative, che sono iniziative anche di qualità significativa. Ho in mente, ma parliamo proprio quasi della preistoria, 1999 direi, in quel di Figino, quindi, dopodiché c'è il settimo milanese, e venne allora l'assessore Carruba, l'assessore alla cultura, e rimase positivamente impressionato perché presentammo tutta una serie di realtà associative che promuovevano cultura attraverso che cosa? La presentazione di libri che avevano fatto. E apprezzò significativamente questo tipo di iniziativa. Allora, è chiaro che poi, se stiamo ai dati ufficiali, e ritorniamo sempre lì, c'è un dato economico, anche con Book City sono stati forniti tutta una serie di elementi economici, e la fetta di osservazione è quella di chi spende. Quella di chi fa, no? A Milano fa el disum, el femma, cambia completamente il parametro. E infatti anche l'osservatore per la qualità della vita di Milano, fatta da Meglio Milano, già che fa statistiche proprio anche sugli aspetti culturali, disse, poi ci sono tutta una serie di iniziative che non sono di facile reperimento perché sono proprio quelle amatoriali, gratuite e così via. Ecco, allora noi facciamo queste 300 iniziative al mese, le spalmiamo, vuol dire che ce n'è solo 3.000, no? E forse anche di più, tanto per avere un'idea. Ecco, se queste non entrano nella visione del budget della cultura milanese, e ci perdiamo una fetta. Fetta molto molto interessante e grande che appunto dobbiamo cercare di riqualificare e di non perdere. Adesso invece Kid Laroi insieme a Justin Bieber con Stay. Kid Laroi insieme a Justin Bieber con Stay. Stay ancora qui un attimo Walter, perché ci devi dire allora degli appuntamenti importanti che hanno a che fare con la città nei prossimi giorni. Allora, nei prossimi giorni, nell'ambito di quelle che sono il palinsesto delle iniziative per il centenario di antichi comuni milanesi, noi abbiamo promosso anche unitamente altre associazioni una settantina di appuntamenti diffusi sul territorio, biblioteche, associazioni, scuole e quant'altro. E quindi abbiamo dato una informazione nuova su quello che è un pezzettino di storia della vita milanese che va dal 1873 al 1923, che è sconosciuta. 50 anni di storia sconosciuta. Si conclude questo palinsesto, diciamo così, ma poi avrà delle altre, delle continuazioni in seguito. Abbiamo due appuntamenti cittadini che sono il mercoledì 13 dicembre alle ore 16 a Palazzo Reale, che ci sarà esattamente il convegno di chiusura. Ok. Invece avremo il giorno dopo, alle ore 21, ma in questo caso al Cinema Arlecchino, dove verranno proiettati i filmati che sono stati realizzati sugli antichi comuni milanesi. Ok. Sono interessanti da vedere. A questo vorrei associare anche le trasmissioni che abbiamo realizzato con Focus Periferie e con appunto Milano News. Ormai le abbiamo... Oggi esce l'ultimo. Oggi esce l'ultimo. Allora, è arrivato Angelo. Oggi esce la puntata di trenno, giusto? Perfetto, mi dicono che sì. Quindi oggi esce l'ultimo. Oggi esce la puntata di trenno. Chiudiamo con trenno. E quindi diciamo che è l'altra faccia della medaglia, per cui abbiamo visto gli stessi posti in una maniera, diciamo così, per certi aspetti attualizzata, con un'attenzione storica e in particolare con un'attenzione all'evoluzione della vicenda amministrativa comunale. Quella burocratica magari, che però conta. In questo momento già sul sito di Milano News trovate l'uscita già, l'ultima puntata è quella di trenno. Ci sono anche tutte le altre dieci, oltre a quella di trenno, di tutti gli undici comuni che abbiamo visitato in un po' di settimane. che siamo andati in giro e raccontato. Ricordiamo che tutto questo poi invece si conclude, diciamo, il 14 giusto a Palazzo... Allora, il 14 è al Cinema Arlecchino. 13 ore 16 a Palazzo Reale. Invece 14 ore 21 al Cinema Arlecchino. Che è anche una bella cosa, perché il Cinema Arlecchino è rimasto forse uno dei pochissimi cinema in quella zona lì che tiene duro e lotta insieme a noi, come in questi casi. Dopo la chiusura anche dell'Odium, insomma... Malte, grazie. Grazie a voi. Grazie a Marte di prossimo. A Marte di prossimo, con la consulta per i friminali. A Marte di prossimo, appunto, con tutto quello che fa Periferia, che sappiamo a Milano essere tanta, 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 tanta. Adesso è Coez, esseri liberi.